Alla fine tutti vogliono vincere, anche le amichevoli. Contro il Karlsruhe non ce l'abbiamo fatta, ma era solo la nostra prima partita e si vedeva. Il mister però ci ha fatto i complimenti per l'impegno, che secondo me a questo punto della preparazione è la cosa che conta di più. Il resto arriverà dopo. Certo, noi speriamo sempre di vincere e di farlo anche nella prossima partita, ma non siamo preoccupati. Ojalá nel prossimo partito vinceremo e potremo vincere e acostumbrarnos a questo, che è molto bello. Giukic ha dimostrato di far giocare un bel calcio a tutte le squadre che ha allenato finora. Noi lo ringraziamo, perché a me piace tenere l'iniziativa e il pallino del gioco. Insomma, controllare la sfera sempre, anche se talvolta è molto difficile. Credo che è molto difficile, ma a volte è molto bello.